beh ragazzi vaffanculo se avete visto il video di prima sono passati passato 10 minuti sì non mi interessa fatto tutto un pezzo di storia sono un pezzo di esplorazione finito così così perché sono stato troppo avido e va ucciso un cazzo biciclope lì ci tornerò ma poi quando sarò un pochino più livellato mi tornerò a venditarli oppure potrei salvare proprio con la dietro vabbè sono incazzato nero porca ptana che spreco ma io non ho ancora esplorato qua subito a vedere è un po se c'è qualche questa fare così al volo c'è eccola lì e la ma lei la conosco lei ci ho visto anche un paio di entai con lei sono troppo contento mi dispiace è bella come cosa perché vuol dire che è proprio una che vuole sfruttare vuole combattere che vuole sfruttare le più cose possibili per combattere persino il suo scudo di intervento non è questa da questo è proprio un pezzo di tramo questo figo io stavo stavo andando avanti per niente questo non ricordo io pensavo anzi che doveva esserci fin dall'inizio bello 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 quanto è bello sta sempre sono tipo di serpente particolare per farlo bello vabbè quante c'è che inquadratura è già bellissimo ragazzi io vado voglio vedere però si può vedere l'inizio invece si può vedere come è bello bello mi piace l'interno la sua bocca questo è felice faccio lo scrivo faccio io faccio 3 bellissimo che figata guarda di gamigami ma che bello questo è tutto il suo corpo ma che figata no c'è bene ma che si sta trampicando sulla sudatore come come un idra ecco quanto è bello quanto è realistico non troppo contento no no volevo goderevano di più da sopra e questo io devo combattere con un po' più di intelligenza colpirlo sulla base del corpo sembra fare il proprio effetto devo colpirlo in faccia ma come io voglio anche un inquadrato bello che maia oh che figata quanti denti cosa mangiano cosa mangerà un idra secondo voi elefanti troll i ciclopi i ciclopi si disituosi li mangiano che afferrano tipo se hanno così tanti denti vuol dire che li afferrano e dato che hanno i denti curvati all'interno vuol dire che impediscono al borso vostro di fuggire e poi man mano io gli otto bellissimo la domanda è va bene cioè deve esserci una preda per testa o va bene una testa qualunque poi digerendo fanno sazzano anche le altre beh devo riscoprirlo guardatura era come il quest devo uscire devo tagliargli la testa con la spada bello peccato però che non si veda mamma con il corpo ferito questa è una cosa che ha fatto notare pure l'ordi che sarebbe quando abbiamo affrontato per la prima volta il il ciclope e diceva peccato che ma la cosa suonava gli perché perché non suona non suonava non suonava peccato però qui è troppo resistenza ma no ma di già non no 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 è un po' eccitare io l'ho iniziato con le mie forze oh è il punto giusto, dovrei arrampicare un po' di più ok, ma dovrei essere il punto giusto ah ma così beh, ultima flashlight chissà se sei un buono da mangiare è morto, ma così è morto no, che delusione cioè è morto con soltanto una testa staccata gli altri? bene, scopriamo agli occhi azzurri beh, è già amore trofea, lusione completa non c'è molto da fare qua ti do un'occhiata se posso fare qualche quest in più ma non credo adesso si va avanti sono molto deluso per come morta vibra mi aspettavo un filmato un po' più curato non soltanto la testa che si stacca potrei leggere il dialogo non ci voglio approfittare sentite, aspetta, la GW come grilli, troppo bene amico chissà se mi sentivate avevo il microfono super lontano vabbè, dicevo bastava anche un filmato di morte alla Monster Hunter ovvero animazione della morte e varie inquadrature era semplice non soltanto la testa non si capisce faccio un po' il criticone i criticoni sono brutti e antipatici perché io lo faccio lo stesso ragazzi, devo scoparmi questa testa ci penso io che sto dicendo? madonna adesso mi bandano la YouTube intendiamo questa testa di cazzo vero lui? no, lei no, ok niente, niente questa si va e basta non posso dormire da qualche parte dovrei andare in in ok cristalli della faia cos'è che sono questi c cosa? da saperlo vabbè, non mi interessa però però cosa? no ma ce l'avevo già no, grazie quanto è eccitato ok ecco ecco spiegarlo un po' strano strano che emanate da un po' e tu? mi ricordo che la missione che avrei che devo fare adesso è un po' lunghina poco 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 lunghina non voglio perdermi troppo ecco qua breve oh no bello abbiamo una abbiamo una nuova missione oh come on ma se dovrei salvare più spesso non c'è l'autosave non è come tutti i giochi moderni dove c'è sempre solo l'autosave in più mi chiedo il level up in cosa consiste possibile che io mi ricordo la prima volta che ci giocai che c'era un sistema di skill questo non lo ricordo ma la domanda è e forse lo si sblocca dopo da questo lì del del trasportare la testa dell'idra fino al re ok ma punto esperienza e così via se li faccio ora li accumulo o li butto nella merda se io ti faccio 10 level up accumulo il sistema di skill o quel che non mi ricordo o quel che era o sto sprecando il mio tempo dovevo salvare quella botta nazza di quina cina sono a me non ho ancora nel culo questo è questo aveva soltanto della pelle di leper faccio un salto rapido in questa città per ecco qua per la missione e la scusa ok però secondo me è una quest del cazzo quindi fammi vedere un po' di roba ma io alla fine il picconeccio l'ho ma non l'ho più utilizzato mi è dato da fare secondo me se vado a questa foresta mi disintegrano ho proprio questo dubbio è da gold dog ma da quello che ma questo è orrendo vediamo se capisce di essere orrendo questo beh non l'ho ucciso perché mi fa fidare oddio cosa fanno che carini non posso ucciderli ancora posso afferrarli? nooo è il mio amico ora si metterà non serà con me per sempre oh mio dio cosa? com'è usato via come fa su? sei cercata? io volevo cullarlo come un bimbo e lui non voleva oh era così carino perché non c'è un pet system? allora ok mi posso buttare cosa c'è qua di bella? niente ma è ancora viva? ancora vivo non ci credo no deve essere un altro vediamo cosa succede se lo butto in mare ma come? ci ralleggia? no molto grave scusate ok beh adesso il coniglio esiste ma no se lo stanno mangiando se lo stanno mangiando sul serio mio dio è molto ancora è molto definitivamente carca buttata che storia che bella sto gioco cazzo che brutta voce c'è questa bambina e subito il sasso aspetta goblin dovevo provare a lanciargli contro una lepre ma no sono tutte troppo lontane ah figo c'è anche questa questa a fare vediamo vediamo che c'è un'interessante a prendere direi che il caso di mandarvi tutti quanti a cagare e staccare così la prossima registrazione si va avanti con la trama un fermo che questo aspetto ho visto una cosa oh yes potenzia posso potenziare le mie armi fino a tre bellissimo ok quindi minerali di rame ok ma è fantastico sono troppo contento perfetto ma il mio telefono mi ha detto perfetto cioè scusate è attivato ok google e mi sta dicendo perfetto assurdo beh posso potenziare anche altro e mi potenzio tutto non mi frega sto pieno di soldi mi escono dal culo non ce l'ho con uno di goblin bello pelle di lupo è addirittura che si senta l'evento ghiaccio figo cosa più tre è una semplice calzamaglia però è non ho comunque potenzialo il massimo che strano che figata sono contento ah no invece sì ok calzamaglia si e skinneri quasi tutto troppo bello ragazzi sono troppo potente no in realtà no in realtà il problema è proprio questo che che temo proprio che gli è più buoni siano più buoni punto va bene nel senso non si può fare molto fashion source anche se non si può giocare solo di fashion ma temo che prima o poi io debba potenziali avere nuove armature più forti e basta beh fino ad allora mi potenzio tutto stupendo adesso fosse ancora più personalizzabile vediamo che posso vendere troiate ti vediamo che fasi no la prima di no la prima di no la prima di mi servono altro armature tu avrai tutta la prima di no no ecco, gli ho venduto tutti i miei sassi ma sì che sono contento sì, immaginavo arrivi un po' tardi ok, allora al prossimo video si va avanti con la trama affanculo a voi che avete osservato, grazie, ciao